Se volete comprare crediti FIFA a bassissimo costo, FIFA Coin fa il caso vostro Tantissimi prezzi e modalità di spedizione, in più potete vendere anche voi crediti a FIFA Coin per guadagnarci qualcosa Tutti i link sono in descrizione Se siete degli esperti del settore, passate Nuovi momento qua su FIFA con i nuovi radioattivi Nel draft di oggi voi andate a provare qualcuno Speriamo di trovare qualche top player o comunque fare un draft fortissimo Andiamo subito nel draft, fino senza perderci in chiacchiere I moduli un po' bruttarelli Mamma mia ragazzi, se sono bruttarelli 433 falso 9, si vola così Uh, bullet falso 9, interessante Peccato che c'era quello speciale, però va bene anche questo AS, oh la la, Marcus Rashford, veramente bello signori Kvicia Baraschelia Radioattivo, Momo è molto bello eh, però nuova carta radioattiva Andiamo subito con Kvicia, bello, 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 bello Altro nuovo, Christian Eriksen Eriksen, mamma mia quanto sono luminose queste carte Molto belle, molto belle, mi piace, mi piace Eeeh, qua chi prende, prendiamo questo Non sono male, non sono male per adesso, ne abbiamo due signori Ne abbiamo due, anche un Guardiol sarebbe top Vediamo se ci sbuca fuori, no Eeeh, prendiamo Danilo perché c'è Kvicia Baraschelia, è vero, però queste carte Hanno come peculiarità che fanno molta, cioè tra di loro fanno tanto, tanta, tanta intesa Quindi ottimo, ottimo, ottimo Quindi non gli servono i link, fantastico E quindi possiamo prendere veramente chi vogliamo E andiamo dai Altro radioattivo, let's go Zinchenko, bella carta che ci han fatto E allora, 8-8 velocità, 8-8 passaggio, 8-8 dribbling, 8-5 diventa E vabbè ci han fatto una bella carta Siamo a 3 radioattivi, mica male Vediamo se c'è troppo qualcun altro Io vorrei provare Leo Uh, un altro, wea Può fare il TD, può fare il TD E lo andiamo subito a provare Vai, vai Ne abbiamo già 4 ragazzi Ne volevo provare qualcuno ma Così sbovichiamo, va bene, va bene Servirebbe raga, vorrei Leo Vediamo se ci troppa Leo Niente da fare Dai un ultimo, un altro radioattivo Un Valverde Lo volevamo provare Ed eccolo qui Il miglior radioattivo Di questo evento di venerdì Leo Messi radioattivo E lo andiamo subito a provare Perché mettiamo Leo qui e boom Dovrebbe dare una grande, grande intesa Adesso siamo messi bene A parte, eh, a parte Kunde Quindi abbiamo un altro Oh, 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 oh Karim The Dream Scusate, mi sono detto che era il più forte Il più forte a pari merito con Karim The Dream 92, la madonna ragazzi Ma che tridente abbiamo Messi, Vicia Karim The Dream, Benzema A, T, A, T, di me può fare la S Mannaggia, A, T, A, T, T, C, O, C Lo dobbiamo mettere dopo Metteremo dopo Karim Metteremo dopo Karim Va bene, però mi sta piacendo Raga, mi sta garbando parecchio Mi sta garbando parecchio Guarda, ci serve Guardi, se ce lo vuole droppare Niente da fare Un bel Guardiol Dai, un altro Un altro Mamma che cagata Dai, sono finite già No, dai, non mi riesco a offrire tutte le carte Cafu è tanta roba E in attacco abbiamo Kovic, Messi E Benzema Il fenomeno è fenomenale Però Dobbiamo provare le nuove carte Cafu lo mettiamo lì E non lo so Cafu lo potremmo anche mettere Difensore centrale Tanto alla fine, non lo so bene Fermi tutti Abbiamo trovato il cdc Buoni tutti E qui è un po' la situella Perché il cdc ha cambiato tutto Che draft, raga Che draft Porca troia Eh, mo' è tosta Eh, mo' è tosta, ragazzi Come diamine ci muoviamo Come diamine ci muoviamo Sei carte radioattive Li andiamo a provare tutti Andiamo subito e vinciamo questo draft Let's fucking go Messi, apre perché vincia Vai cavara Corri bello mio Che vincia si ferma Punta Si gira Palla per Leo Fuori iaia Rrruut Gullit C'ho tutto il pad sbord Mannaggia Devo mirare Rude Devo mirare Rude Palla in mezzo C'è Benzema Gollit Nooo Messi, niente da fare Distrutto malamente Però devi correre Timoti Devi muoverti Timoti Prendilo Timoti Bravo Timoti Wea Bravissimo Vincia ancora Fa una finta Palla per Karim Che si muove molto bene Può girarla perfettamente per il fenomeno Ronaldo Si gira Sempre Ronaldo Sbagliato Eh mi ha temporeggiato da Dio ragazzi Mi ha temporeggiato da Dio Messi Per Timoti Ancora il volo Ma che c'è Ah sfida Aia Aia Aiaiaiai 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 Madonna De Dio Che gol Gersinio Porca troia Che gol Nooo Andati a vuoto così Gersinio In 3 secondi 2 a 0 Male 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 Dobbiamo riprenderci Dobbiamo riprenderci Non è finita Abbiamo giocato così bene Palla per The Dream Madonna Nesta Ma che cazzo è diventato Ma che tiene le carte bustate Sto gioco di merda E su E già Nesta Ma ha fatto 3 interventi Non è Maldini The Dream Palla fuori Per il fenomeno Vabbè Trent Porca Trovassero senza Che maga Ti devo dire Trent Alexander Adoro è diventato Boh Il Gesù Cristo Sceso in terra The Dream Niente Miracolo di Ederson L'abbiamo capito Dai E quella partita di FIFA Signori L'abbiamo capito tutti Dai E quella partita di FIFA Cross in mezzo Gullit Niente Di nuovo Riparte Gliagliature A vuoto Eh ragazzi E' quel match Purtroppo E' quel fottuto match Grazie mille Gli esporti Ti voglio bene anche io Bello per Gullit Sempre Gullit Ancora Gullit Palo Eh raga E' quel game Niente da fare Niente Eh Zerzino Che fa pure Se prendo il creatore Di sto gioco Tra le mani Zio Mannaggia A chi va inventato Mannaggia A chi va creato sto gioco E poi dicono Perché vai Fai gol Fai gol Opla Opla E chi l'avrebbe mai detto Tre tiri Tre gol E poi ci sono io Grazie mille Gesù Grazie mille Tiro gol Opla Quattro tiri Quattro gol Dai Dai che forse Ce la facciamo Sul secondo pallo C'è il fenomeno Oddio Sì Oddio Qualcuno degli esports Oddio Si stanno sentendo male Il loro gioco Sta per essere boicottato La palla è entrata Ci è voluto tanto Tanto sudore La palla è entrata Abbiamo dovuto tirare Abbiamo dovuto soffrire Non è come l'avversario Che basta che calci Nello specchio della porta E la palla entra Dobbiamo bestemmiare l'anima Lui non ha Nesta Che tra parentesi Una merda E ovviamente Che lui è Gesù Cristo Io ricordavo Trent nella realtà Che non sapesse difendere Benvenuti su FC24 Dove Trent Alexander Arnold Vi stuprerà Qualsiasi giocatore Perché Paolo Maldini E' un fallito In confronto A Trent Alexander Arnold E ho premuto Tre volte Triangolo 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 Ma forse Da quando intercetta Da quando intercetta Tutti Vorrei fare un Vabbè Io che chiedo Una cosa A sto videogioco Vorrei sapere Come mai Benzema È diventato Il più grande Difensore Della storia Capiscia Possiamo fare gol No 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 Yesports ha detto No 100 euro FIFA points O tu gol non lo fai Adesso guarda Il gioco dice Guardati Guarda come prendere gol Adesso lui calcia Parata È un aggiornamento Siamo su PS6 E PS7 questa Siamo avanti Anni luce Fenomeno Corri Corri Fenomeno Fenomeno Niente Ederson Niente da fare Che ti devo dire Signori Che vi devo dire Corri Ronaldo Corri Corri Andale amico Dai che è buona Entra 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 Signori Entra Questo trapezio Può entrare Questo trapezio Può entrare Prego Dio Battezza Ci falla Entrare Dio Dio mio Che parata Fatto Ederson Guarda che Miracolo Era una bella Boccia Io ti dico Che era una Bella Boccia Quendecundecu Minchia Ti chiami Ovviamente Falla E ma Il mio è caduto Ma dai Ma il mio è caduto Madonna Benedettissima Ma Ma i miei Che cavolo Sono Ma sono Dei birilli Ma il mio portiere Come uno Stantuffino È caduto È svenuto Ma beh Perché il mio difensore E quello è caduto Dai ragazzi Ma è un mix Di emozioni Un mix Di meraviglie Gollet Niente Niente Vera Vera Signori Vera Io non so Questo Chi cavolo Sia Dove È sbucato Fuori Io non so Questo Dove Cavolo È sbucato Fuori Dai Oddio Oddio Sei a quattro Vogliamo credere Nei miracoli A Natale Puoi Fare ciò Che non puoi Fare mai Vincere una partita Di fifa Finisce Qui Partita Persa la prima In modo clamoroso Madonna di dio Questa partita Mi ha fatto ricordare Il perché Ho smesso di giocare A fifa Dopo anni Ho capito proprio Perché Vedi Ti ha Mi ha proprio Mi vuole ricordare Il perché Non giochi più A questo gioco E capisco anche Tante belle cose Mannaggia Mannaggino Posso rivedere Almeno la squadra Niente Nemmeno la squadra Ci fanno rivedere Allora Di tutti i radioattivi Ragazzi Sembrano identiche Alle carte oro Forse Ovviamente Cvicia Cvicia Mi è piaciuto Vi dico la verità Tutti gli altri Sono dei coglioni Veramente Cvicia Mi sembrava malissimo Gli altri Sono dei bidoni Dell'umido Signori Se oggi vi è a termine Anche di questo Video di fifa tilt Dove tilt Mi incavolo È veramente Solamente bestemmia E rabbia Questo gioco Signori Io come sempre Un bel mi piace Fatemi sapere la vostra Su questo nuovo evento Delle carte radioattive Qual è il vostro preferito Se riuscite a trovarli O provarli Fatemi sapere nei commenti Dove vi raccomando questo Per ringrazio di vista il video Per ringrazio di sostegno Da Exet È tutto E haters Make me famous I am restricted Fixed upon the web I need to kick the habit That my mind is breathing in Break out I've got to see Spent all my life Holding all of it closely I've played it